40 40 40 Demander le chemin. Chiedere indicazioni. Chiedere indicazioni. Excusez-moi. Mi scusi. Mi scusi? Pourriez-vous m'aider? Mi può aiutare? Mi può aiutare? O yat-il un bon restaurant aux alentours? C'è un buon ristorante da queste parti? C'è un buon ristorante da queste parti? Tournez a gauche au coin de la rue. Qui all'angolo giri a sinistra. Qui all'angolo giri a sinistra. Poi segua dritto per un po'. Poi segua dritto per un po'. Faites ensuite 100 m e tournez a droite. Dopo cento metri giri a destra. Dopo cento metri giri a destra. Poi segua dritto per un po'. Puoi 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 segua dritto per un po'. Può anche seguirmi in macchina. Comment vejo au stade de football? Come arrivo allo stadio? Traverser le pont. Attraversi il ponte. Attraversi il ponte. Passer par le tunnel. Passi il tunnel. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. Segua fino al terzo semáforo. Tourner ensuite alla première rue a droite. Prenda la prima strada a destra. Continuei ensuite tout droit au prochain carrefour. Poi, al prossimo incrocio, continui diritto. Poi, al prossimo incrocio, continui dritto. Excusez-moi, comment vejo all'aeroport? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Scusi, come arrivo all'aeroporto? Le mieux, c'est de prendre le metro. È meglio se prende la metropolitana. È meglio se prende la metropolitana. Descende simplement au terminus. Arrivi fino all'ultima fermata. Arrivi fino all'ultima fermata. Arrivi fino all'ultima fermata.